ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario orme naturali con drosalus informazioni commerciali titolare camon spa concessionario camon spa confezioni con drosalus 30 compresse orme naturali con drosalus naturale 60 cpr formulazione con equiseto bosvellia condroitina glucosamina msm posologia 1 cpr ogni 10 kg pv oltre i 40 kg non superare le 4 cpr al giorno nel gatto somministrare 1 cpr se di taglia grande fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato